Musica Con un comunicato stampa l'associazione Mesagne Cambiaverso ha proposto di chiudere il centro storico per donalizzarlo interamente, farà una raccolta di firme nelle prossimi giorni. Noi abbiamo chiesto ai commercianti il loro parere e soprattutto all'amministrazione comunale abbiamo chiesto al sindaco se ci sono progetti in tal senso. La notizia è di ieri. Inizierà una raccolta di firme per chiudere al traffico veicolare il centro storico. Lei che ne pensa? Sicuramente no. Perché? Per quale motivo? Soprattutto per l'esercizio che ho io. E poi no. Non so. E invece che cosa ci vorrebbe per il centro storico? No. No sta... Se ci vorrei. No mi sta più in contropiede, piano piano. E certo. Sicuramente. Ci vorrebbero tante iniziative. Prima prima di aprire la piazza commestibili perché l'hanno finita e credo che sia giusto che dovrebbe essere aperta. e poi erano apriti tanti negozi. Non la fa come era una volta, insomma. Le macchine dovrebbero passare fino a un certo orario. Non perché parlo da commerciante, parlo dalla mia parte, però sia giusto che devono passare. Che va bene. Solamente al momento in cui nel centro storico aprono 50, 60, 70 attività commerciali dove la gente può venire a piedi e passeggiare. Ma fin quando non c'è un'attività commerciale, ce ne sono due o tre, chiudere il centro storico a che cosa serve? Giusto per farlo morire ancora di più? Quindi bisognerebbe risolvere altri problemi? Bisogna risolvere i problemi prima di portare la gente a aprire attività commerciali nel centro storico che ci sono tanti locali chiusi, tante cose, come la piazza commestibile che la stanno facendo morire di nuovo. Tra qualche anno bisogna ristrutturarla tutta di nuovo perché già i danni sono stati fatti. A che cosa serve chiudere il centro storico? A fare ancora più danni a già quello che c'è? Solo quello servirebbe. E basta. La discussione comunque è seria, soprattutto in riferimento alla piazza commestibili che dovrebbe essere aperta, altrimenti diventa covo di persone poco qualificabili. Sì, allora noi come commercianti siamo a favore della chiusura del centro storico. Un momento in cui posteggi esterni, vigile di quartiere 24 ore su 24 e poi il completamento della piazza commestibili che sta qua da tre anni e sapete insomma la situazione di piazza commestibili. E più dobbiamo vedere tutti questi ragazzi che stanno in piazza commestibili. Ieri l'assessore insieme ai coordinatrici del comune sono venuti, delle siringhe, delle... Cosa accade qui la sera? Quello che vi sto dicendo, loro lo sanno benissimo, ieri l'hanno constatato gli assessori del comune, hanno constatato delle siringhe perché c'è gente che purtroppo è ormai diventato un covo di questi ragazzi qua. Le forze dell'ordine passano? Le forze dell'ordine mai, ecco perché noi vogliamo. Se chiudono il centro storico va benissimo, con un vigile 24 ore su 24 e vigili di quartiere, cioè devono stare nel centro storico perché nel momento in cui chiudi al traffico, in automatico questi ragazzi possono stare più tranquilli nella piazza. Noi come commercianti e come residenti del centro storico siamo a favore della chiusura nel momento in cui si fanno queste cose. Se queste cose non si fanno, noi faremo una raccolta di firme per riaprire tutte le strade che sono state chiusi. Perché solo in questo modo si può vigilare nel centro storico. Solo in questo modo. Sindaco, l'Associazione Mesagna e Cambiaverso ha fatto una proposta, farà una sottoscrizione per la pedonalizzazione dell'intero centro storico. L'amministrazione comunale come la pensa riguardo? Questa è un'ambizione che ormai è diventata storica e noi la sottoscriviamo in pieno. Bisogna però comprendere realisticamente quanto distanza c'è tra un sogno e la realtà. Allora bisogna andare in quella direzione, ma bisogna che quella direzione sia realmente percorribile, perché questa direzione deve essere condivisa da tutti e perché si realizzi bisogna innanzitutto che il centro storico diventi quello che noi vogliamo e che ancora non è. Cioè a dire il luogo in cui si concretizzano gli obiettivi di turismo culturale che noi abbiamo in animo di realizzare e che si stanno cominciando a vedere. Quindi prima bisogna che viva questo centro storico, bisogna che noi incentiviamo il commercio, che diamo garanzie a chi vive, ai residenti, ai commercianti, bisogna che apriamo piazza commestibili e in questo percorso accompagnare a piccoli passi questa prospettiva. Intanto razionalizziamo la sosta e apriamo piazza commestibili. Intanto diamo respiro e fiato alle attività commerciali, ampliando lo spettro e le possibilità che hanno e che potrebbero ancora avere e lavoriamo in questa prospettiva. Tieni conto che io dieci anni fa quando ero assessore e avviai questo processo di pedonalizzazione del centro storico ci sono venuti dieci anni perché via Geofilo e via Castello fossero effettivamente pedonalizzati. Non possiamo non tener conto di com'è la realtà, la realtà è questa, bisogna tendere a quell'obiettivo ma prima bisogna farlo vivere questo centro storico.